Oggi Capitan Verderame non ha voglia di scherzare, senza occhiali, senza cappello a buffone, senza voce contraffatta, senza maschera, oggi pensa a voi, a voi che difendete la vita dal momento dello concepimento al momento della morte naturale, a voi che, no, no, è un omicidio, un corpo vegetale attaccato alle macchine, a voi che avete difeso massacri in tutta la storia, a voi che avete bagnato di sangue gli Stati Uniti, bagnato di sangue in Sud America, a voi che avete bagnato di sangue le conquiste dei popoli guerrieri, voi che contrabbandate una morale ipocrita, voi che delle scritture tenete buono soltanto il Levitico e poi lo tradite anche, ebbene, adesso si viene a scoprire che vi piace violentare i bambini, anzi, lo si sapeva anche già, ma tutti stavano zitti, adesso no, adesso parlano, come non potevano parlare però, quei bambini soldi muti, eppure vi piacevano, vi piacevano anche i muti, anche se non urlavano, bastardi, voi difendete la vita, dite che la vita è la cosa più preziosa, è una data da Dio, la vostra vita non vale nulla, la vostra vita è solo merda, non vale più cazzo, bastardi, due di bastardi.